I misteri di Taranto. Mi trovo in via Lazio, quasi ad angolo con via Liguria, quindi una zona assolutamente centrale. Il mistero è che un tratto di via Lazio, proprio questo tratto che va da via Liguria fino, vedete qui, non è stato ripavimentato, mai più ripavimentato. Il resto del marciapiede, potremmo andare fino in fondo, risulta ripavimentato, qui nulla. Ma non è solo un fatto estetico, qui stiamo parlando di una situazione gravissima, di mattoni, non se ne vedono. Li vedete voi? È stato buttato il lotempore catrame, toppe e rappezzi di catrame, qualcosa di incredibile. Sprofondamenti, perché qui una persona cammina e ci cade. Stessa cosa dicasi andando più avanti. Una sporcizia diffusa, qui chi ma ambiente amiu non si sa se e quando interviene, perché qui sono giorni e giorni che non si pulisce. Guardate cosa si è accumulato. Un porcile, una schifezza. Vi sto facendo vedere in contemporanea la sporcizia e le condizioni pericolosissime del marciapiede. Ma la cosa strana è che praticamente il resto del marciapiede è stato ripavimentato e questo tratto infelice, disgraziato o no. Si aggiunga poi, le cose vanno dette, l'inciviltà dei cittadini che portano i propri cani a fare i bisogni e ci troviamo la mattina e il pomeriggio e la sera le varie sorpresine a terra. E qui l'inciviltà dei cittadini certamente, ma anche la mancanza di controllo, perché nelle città civili, caro comandante, caro sindaco, si mandano i vigili in borghese. Nel momento in cui si comprende bene che quella zona è una zona particolarmente oggetto degli incivili, più che oggetto vittima degli incivili. Ma, ditemi voi, alcuni cittadini, in particolare un signore mi ha sottolineato questa situazione. Io stavo camminando in via Liguria e dice guarda qua, questo tratto di via Lazio cos'è? Un tratto di disgraziati? Evidentemente sì. Che dire? Sono immagini da terzo mondo, da terzo mondo. Non c'è altro da dire. Qui Melucci, mi pare che qui vicino abitino anche dei suoi familiari e quindi magari conoscono bene la zona. Magari i familiari del sindaco Melucci potrebbero meglio avvisarlo e renderlo ad otto circa questo scempio. A pochi metri so che ci sono dei suoi congiunti. Ma evidentemente forse Melucci neanche delle lamentele dei familiari, neanche alle lamentele dei familiari da ascolto. Che dire? Povera Taranto. Ma su questo tratto di via Lazio voglio capire, voglio capire e voglio capire. Resta un mistero. Un mistero tutto tarantino.